Rapina a mano armata ad un supermercato, fuga, colluttazione, due colpi di pistola ed il ferimento del malvivente. Si è conclusa con l'arresto del 33enne pregiudicato ostunese Giuseppe Scalone, il movimentato martedì sera del supermarket Meta in via Cappellini ad Ostuni. Il fermo, operato dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza della Città Bianca, è avvenuto in flagranza di reato dopo una rocambolesca serie di avvenimenti che hanno avuto inizio nella serata di ieri, intorno alle 20.45, quando il rapinatore si è presentato all'interno del locale commerciale con il volto coperto da una calzamaglia ed in mano una pistola calibro 22 con la matricola brasa, minacciando di sparare ed intimando la cassiera di consegnargli immediatamente tutto il denaro presente in cassa, circa 2.000 euro. La violenta irruzione ha provocato il panico tra i clienti del supermercato che hanno raggiunto velocemente l'uscita per allontanarsi dal luogo in cui avveniva la rapina. Raccolto il denaro Scalone, dopo aver sparato un colpo di pistola verso il pavimento per creare ulteriore timore e farsi strada tra le già atterite persone presenti, si è dato alla fuga. Nel frattempo, all'esterno del market, il proprietario dell'esercizio commerciale, mentre sul posto arrivava una volante della polizia, si è lanciato contro il rapinatore bloccandolo e iniziando uno scontro durante il quale dall'arma di Scalone è partito un colpo che ha raggiunto il pregiudicato, poi disarmato dagli agenti, ad una gamba. Il denaro così recuperato è stato restituito al legittimo proprietario. Le indagini della polizia sono proseguite nella notte. In contemporanea, la polizia scientifica ha effettuato rilevamenti tecnici utili alle investigazioni. Grazie Grazie Grazie